benvenuti su magis of lotus oggi vi portiamo un'altra deck tech di pauper così da continuare la nostra serie cercando di coprire bene o male tutti i mazzi allora oggi portiamo finalmente un combo che purtroppo per fortuna nel formato avevano subito un certo calo un calo abbastanza drastico per via dei ban e soprattutto su una meccanica che è sempre stata molto 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 castigata in pauper in maniera particolare ma in generale in tutto magic storm allora grazie a modo a rezone 2 sono state introdotte a parte tantissime carte per tutti i formati anche delle carte molto importanti per il pauper una di queste chatter storm è quella che ha fatto nascere questo mazzo e galvanic relay allora analizziamo il mazzo il mazzo è un combo che punta a fare degli scoiattoli incazzati rapidi due due che vogliono one shotare l'avversario in pratica o se proprio è bisottare ucciderlo in due turni allora vediamo le carte e come si compone il mazzo allora il mazzo è composto in maniera molto semplice da delle terre di pauper poco conosciute da chi ha iniziato da poco ma da chi invece esperto del formato comunque giocatori di lunga data sono terre che riconoscerà sono le le depletion land le miniere in pratica e queste qua che sono dei layer non saprei come definire in realtà non sono proprio i layer come terre che sacrificandole danno due mana allora guardiamole bene questa entra tappata ti aggiunge rosso se la sacrifichi bg poi queste qua ci sono quelle miniera che sostanzialmente entrano tappate poi le tappi rimuove un depletion e ti aggiungono due mana di un singolo colore in questo caso nero e questa qua rossa ci sono anche degli altri color ovviamente si giocano precedente quelle che ti sono più utili per i tuoi rituali perché l'altra parte parte dei mazzi sono i rituali appunto il nostro obiettivo è fare una concatenazione di vari vari riti in maniera vera è tanto mana dopo aver tanto mana vogliamo utilizzare se possibile uno scartino per impedire all'avversario aver la risposta la nostra combo sui pezzi chiave o una rimozione di massa sugli scogliattolini dopodiché con tutto quel mana che abbiamo ciclarlo con mana morfosi che ci aumenta di più 1 la stone count si cicla e non ci costa mana in pratica è come giocare con 56 carte in pratica con mana mana morfosi dopodiché tirare first day of class che sostanzialmente non è un instant a costo due che dice ogni colta una creatura deve entrare nel campo di battaglia sul nostro controllo questo turno entra con a con un più 1 ea rapidità importantissima per noi invece permette appunto di fare l'effetto b shot ammazzarti in due turni o addirittura uno e che può essere utile perché magari scartiamo terra in eccesso per andare a scavare ancora di più nel mazzo cercare altri pezzi per la combo o andare a prendere pezzi interessanti perché hanno messo anche delle terne delle lesson comuni come la scienza ambientali che non è male ci va a cercare terra o ci dà i punti vita che è sempre importante per cercare di sballare un po la race andare a diggare più in profondità mettere più pezzi in caso dovessimo fare un piano leggermente midrangioso sul lungo termine o addirittura togliere un permanente che proprio ci impedisce di scombare o vivere tranquilli ma la funzione principale appunto quella di dare più uno più uno e sa tutto dopodiché quando avremmo fatto almeno uno storm da 5 se non di più per cercare appunto di one shot all'avversario dovremo tirare chatter storm che praticamente un empty the warrens di mezzato e di colore verde perché a costo 2 crea uno scogliato l'uno storm quindi a differenza di empty the warrens è molto più debole perché empty the warrens costa 4 però dopo aver tirato già solo 3-4 spell riuscirete a metterne 5 copie 4-5 copie in pila e con anche solo 4 copie sono ben 8 token queste invece con 4 copie notate subito che sono solo 4 token quindi si ma però costa la metà è però se giocando tanti rituali avremo tanto male in eccesso quindi in realtà il fatto che empty the warrens costi 4 non è un grosso problema per noi perché tanto avremmo che ne so 7 8 9 10 ma magari quando scombiamo e invece il fatto di dover tirare tante spell quello sì perché se noi continuiamo tantissimi riti e non peschiamo abbastanza cantrip quindi malamorfosi night's whisper e signing blood rischiamo di auto bloccarci e non scombare in maniera adeguata e fare troppi pochi token ho detto questo c'è anche un'altra carta che è un ottimo backup che galvanic relay se no che appunto aiuta questo parte qua di bloccarsi e non fare abbastanza spell se vediamo che non riusciamo fare troppo abbastanza spell per chiudere l'avversario ci manca first day of class o qualsiasi cosa noi possiamo utilizzare il galvanic relay che sostanzialmente ti fa esiliare la cima del tuo grimorio e durante il tuo prossimo turno puoi giocare quella carta sostanzialmente ottimo perché esiliamo tangari anche solo 56 carte dalla cima però poi avremo praticamente una mano completa il turno dopo perché se noi tiriamo facciamo una bella stormata da 5 castiamo questa come pezzo finale più altri qualche altro cantripino eccetera magari quindi anche magari più di 5 e quelle carte è come se fossero in mano ma sono protette perché sono in esilio quindi l'altro non ci potrà attaccare la mano con gli scartini perché sono dall'altra parte tranquille poi scombiamo nel nostro con più tranquillità perché abbiamo le carte in mano più queste magari 5 e 6 che abbiamo girato dalla cima notate che il mazzo è proprio all in su quel piano lì non poco da fare bisogna cercare di fare questi scogliattoli rapidi e incazzati uccidere l'avversario attenzione che qualche volta qualche uccisione con il sunning blood la fate per chi c'è target player quindi magari gli ultimi due dannini li fate col sunning blood ci ho già ucciso alcune persone con questo verità non con questo mazzo ma in generale poi altre carte abbastanza importanti sono il loto perché la base di tutti i combo costa zero e ti rampa di uno fortissimo e la chromatic star che è carina perché comunque un cantrip fa da più uno al mazzo infatti tra chromatic star e manamorfosi come giocare appunto anziché anzi 56 solo con la manamorfosi in realtà bisogna togliere altre 4 carte e stiamo giocando 52 perché sono carte che si ciclano praticamente a gratis si ridanno il loro costo ridanno la carta detto questo guardiamo anche un po la side alla veloce allora varie rimozioni costo 1 per essere rapidi electricery ottima per magari il mirror eliminare i scogliattoli dell'altro gutshot perché insomma vogliamo tutte risposte cheap che ci costino magari anche zero mana il immancabile piroblas si lo fa il compagnia cantante e flaring pain che può essere utile perché il danno non può essere premuto questo turno e purtroppo gli scogliatti lo uccidono solo tramite danno quindi un modo per impedirci di scombare e uccide l'avversario è anche utilizzare le varie nebbie molto presenti nel formato detto questo andiamo a vedere un po i match up allora questo è un mazzo molto all in contro i mazzi aggro tendenzialmente ha un buon match up soprattutto on the play perché l'aggro per vincere contro le no bisogna di essere uno on the play e due una mano con una curva perfetta perché noi gli diamo tregua lui non interagendo con noi dandoci il tempo di fare le cose perché sappiamo che entro quattro cioè abbiamo quattro turni per stare tranquilli quindi possiamo fare un piano sul breve lungo breve medio periodo noi riusciamo a colpirci la mano e tranquillamente a scombare quindi se loro stamblano anche solo un po e ci danno magari quel quinto sesto turno sono morti e devono assolutamente quindi migliorare g2 quindi aggro buon match up i combo beh bene o male ora in pauper non ci sono tantissimi combo quindi è un mirror anche più veloce contro i control è abbastanza dura perché siamo molto all in sul piano scogliattoli e ci sono in pauper varie carte forti in grado di eliminare gli scogliattoli tutti in una volta sola tra l'altro a instant quindi e patiamo anche abbastanza le counter spell perché comunque noi possiamo anche fare una stormata gigante però mettiamo magari 10 scogliattoli ma l'altro in due turni riesce a eliminarci perché perché tanto se noi togliamo il first day of class col counter spell i pezzi non sono rapidi li fa anche magari gli scogliattoli e poi nel mio turno in tranquillità te li elimino quindi controllo tendenzialmente non siamo ben messi infatti dobbiamo giocare main deck costrizione con le addizionali di side se le vediamo main deck magari il g1 migliora tantissimo la nostra percentuale migliora tantissimo però siamo abbastanza dipendenti da questa contro i mazzi mid range invece è abbastanza un 50 50 come vabbè normalmente con i mid range hanno questo effetto di essere 50 50 con tutto perché se pescano la metà sbagliata del mazzo quindi la metà che non interagisce bene con noi sono abbastanza messi male c'è da dire che se riescono a mettere una bella schiera di creature potrebbero anche sopravvivere comunque se hatter per dire 3 bloccanti e noi a meno che non attacchiamo con tantissimi scogliattoli lui non prenderà tantissimi danni però comunque noi abbiamo la possibilità di fare davvero tanti scogliattoli ho visto anche delle partite in cui se ne metteva anche 10-12 quindi non pensiate che questo mazzo visto che ogni spell ne genera solo uno in più in realtà fa solo stormate piccole da 5-6-7 le fa anche belle alte non disturbato e non tutti i mid range riescono ad interagire bene con la pila che è quello che serve praticamente per battere questo mazzo anzi molti sono con Boros, Monarch e compagnia cantante che interagiscono benissimo sul board ma malissimo sulla pila e quindi possiamo stroncarli perché riusciamo a fare una presenza troppo grande che fa un po' ridere di scogliattoli rimangono ancora i mid range call blue da dire che potrebbero essere un po' più problematici e i mazzi tempo che effettivamente allora i mid range call blue possono anche avarci i mazzi tempo sono effettivamente the bane cioè il flagello dei mazzi combo perché alternano una pressione a costo basso a delle chip interazioni tra l'altro molto efficienti sulla pila e quindi ci colpiscono un po' nel nostro punto debole e non ci danno neanche il tempo di stabilizzare e metterci tranquilli perché continuano a farci chip damage tutti i turni e hanno sempre una risposta pronta di nuovo siamo dipendenti da questa costrizione ancora tra l'altro di più rispetto che i controlli ma al contempo anche se la vediamo magari rischiamo di perdere lo stesso perché comunque la pressione ce l'hanno comunque mentre controllo magari se gli togli la risposta non ti chiude per cento anni tu hai tempo di trovare di nuovo tutto quanto mentre loro no hanno il loro ninja il loro delverini e ti fanno fuori vedendo dal punto di vista investimento anche se fa un po' ridere perché parliamo di pauper però è una componente il mazzo è un l'investimento tutto sommato buono allora qua a peta di loto lo vedete così costoso in realtà in Europa non è così costoso è una carta comunque ha un valore perché è giocatissima in 4x in tanti formati in più è richiesta da tantissimi mazzi di commander in 1x però vedete questa è la versione figa quella vecchia vedete che non è eccessiva comunque con una quarantina di euro se proprio volete fare gli spendazioni e prenderli tutti mint ve la cavate vediamo un attimo delle stampe questo non guardiamolo questo neanche queste due versioni vedete comunque qua si parla di 50 euro prendo 10 euro sul singolo e qua di 40 e comunque un buon investimento poi il petalo di loto si rivende easy se proprio smettete di giocare il mazzo anche perché comunque se non giocate commander o legacy la sfiga è che il petalo di loto vi rimane un po' chiodato le copie aggiuntive però si vende facilissimo quindi non preoccupatevi tutto il resto invece sono carte che costano davvero poco per considerare che queste terre qua siano un prezzo ma si parla dell'euretto perché sono terre vecchie praticamente stampate solo una volta però comunque sul mercato ce ne è tantissime anche perché non sono super richieste considerate che erano richieste quando c'era il vecchio strano di pauper quindi parlo di tanti anni fa in commander sono praticamente non richieste a parte qualcuna ma comunque anche quelle un po' più richieste sono richieste poco se guardate le carte in generale richieste di commander e quindi non hanno un prezzo alto tutti i riti dure queste cose qua hanno un prezzo irrisorio perché hanno subito tante di quelle stampe ban e robe varie che non valgono più niente quindi se volete montarlo si ci sta però come abbiamo detto per altri mazzi questo è una tipologia di deck che non conviene ai novizi in generale di magic quindi se siete poco esperti di magic e o poco esperti dei combo proprio di come si giocano questi mazzi non vi conviene montarlo all'inizio ma che non vogliate investire il tempo per impararlo e per gli inesperti del formato ma esperti di magic quindi che hanno già giocato questa tipologia di mazzi magari appunto in legacy o modern o in altri formati è un investimento che conviene perché comunque è un mazzo che punta molto a far la sua cosa si per carità dovete imparare un po' giocare attorno quello che fa l'avversario ma comunque avete gli scartini per sapere cosa sta facendo l'altro quindi tra virgolette giocare a poker scoperto e dovete concentrare a fare la vostra cosa in maniera più efficiente possibile e basta soprattutto in G1 quindi se già avete la forma mentis perché avete appunto giocato altri combo simili va bene come investimento va bene prenderlo e soprattutto avete magari dei buoni risultati fin dall'inizio altre cose da dire sul mazzo è che attenzione e questo è importante è un mazzo nel mirino dei ban storm non è mai durato tanto in pauper questo sta durando addirittura fin troppo molti si aspettavano che nella scorsa ban list in realtà ci avrebbe salutato invece è rimasto sinceramente non ho letto motivazioni particolari su questo non ban anche perché molta gente è rimasta in realtà perplessa dalla cosa perché comunque è un po' primente come deck non come gli altri è abbastanza arginabile ma comunque primente e quindi visto che ora hanno grilletto facile si pensava che boom ciao ciao però se lo volete montare a vostro rischio pericolo perché comunque se bannano qualcosa questo è il prossimo mazzo quindi piccolo consiglio a sto punto non montatevelo foil perché comunque se no a parte che foil effettivamente ha un costo davvero elevatissimo perché a parte questa presumo che tutto è questa qui ma la morfosi e compagnia cantante foil hanno un prezzo davvero altissimo però insomma morale della favola occhio che potreste finire di montarlo e tac ve lo bannano piccolo aneddoto personale lo stavo facendo per Pauper ma non questo qua il vecchio storm di Pauper e l'avevo finito di montare me l'hanno bannato quindi molto bello e avevo iniziato a montare Cloudpost che è praticamente il trono di adesso che vinceva nello stesso modo con i muri e il mull drifter blinkando e compagnia cantante e mi hanno bannato Cloudpost è stato molto divertente anche quello e poi per ora trono però almeno non me l'hanno più toccato detto questo grazie per stati con noi ricordatevi di lasciare un like commentare e iscrivervi e ci vediamo alla prossima ciao